Buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno e pace, questo è un bel bacio da parte mia a tutti quanti voi. Ragazzi, signore e signori, ci vediamo dopo, sto facendo un eco e un elettrocardiogramma, sia per me che per il baby, il mio piccolo baby, ok? Perché qua dobbiamo stare tutti sotto controllo, per la salute veniamo prima di tutto il corso, ok? Ci vediamo dopo, io sono qua in questo bellissimo studio ufficio e qua è nata a me, moro, ci vediamo dopo per la diretta, ok? Non vi abbandono, un bacio. Buongiorno, 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 buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Ieri mi stavo tutta ingazzata, mi avevo messo un nervo, a ieri, che potecaffa, c'è su ricetta marito, c'è su, e nero, sanno pesante, posto di fuo buttello, a posto di lucca perché a ieri è setta mattina, mesi uomini, e la gente stava in natura, povero di che si va a fare i suoi dire tanti, i tuoi bandieri, ma se vuoi, io voglio riuscire a ridere, sui pezzi, sui pezzi di casa si cagliano ma non cagliano, ma non voglio essere ritti, e mi dico, perché chi le dice tutta la mente dice, ti ha scattato un'aliena, non ci vuole fare la pavata, non l'ha accettato, non l'ha girato i soldi, non ci fa cacciare altre cose, allora ci ha cacciato pure, cioè perché, e poi si è venuta a segnare le ritori, ma ragazzi mi dovete scusare, io vi chiedo scusa pure a tutti quanti voi e chiedo scusa pure ai miei figli, poi l'ha seduta con tutti quanti loro, e mi scoperto che mio figlio mi ha detto, ma guarda, è stato a questo che ho fatto, ho fatto ai tutti a questo, mamma senta, ma perché io mi ero a picchiare le ritori, magari papucce perché sei a picchiare le ritori, magari solo noi, e papucce te li mangiava, cioè perché non c'erano a picchiare le ritori, perché noi non c'erano a picchiare le ritori, non c'erano a picchiare le ritori, non c'erano a picchiare le ritori, ho visto quei video di tic toc, e io dicevo tutte quelle cose, o Mario sta andando a casa, mi, che li ha fatto là, però secondo me è come ha detto mio figlio Rosario, le ritori sono state buttate dentro il picceriello, hai capito? non mi faccio mai girare come sto, non mi faccio mai girare, mai girare? stai raccomando a mosella non mi tocca a mosella lo sai chi è il tuo protettore è il tuo cuantino un'altra parte se ne lascia poco la palla ma si deve venire perchè l'ho visto stude stude ora vediamo quello che voglio fare con queste pellele per queste cose a me piace mi pare il cucciatole le facciate capito? troppo una faccia di pesta però tengo solo un faccio tengo l'amore guarda che mi ha già fatto i zig ma l'ho fatta perchè tengo troppo una pur quando ha l'ucca e faccia i zig però è la roppa parla con il signor il signor è scelta calma ti buongiorno ayer mi ha fatto per le scelte cose buongiorno tutto bene? tutto bene dove sta? non so come stai sento incazzato? guarda 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 sto in diretta ora sta accad ragazzi ma guarda 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 con il profumo questo qua è di oro guarda guarda Valentino guardate qua come volete spendere così mangiate poche piccole anche per le feste di 18 anni per i compleanni guardate come sono belle queste bottigliele da uomo stanno tutte le maniere e ci stanno pure i femminili quindi guarda 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 hanno pure la brassa profumeria che vuoi dire? che vuoi dire? guarda guarda questi qua non lo dico un po' d'arco hanno il shampoo hanno il bagno schiume hanno il proprio babbo hanno il finestre l'ultra dolce tenendo pure i prodotti quelli la che teniamo noi con le dorande sotto i bracci uo fructus tenendo pure i prodotti giornalieri tenendo la profumeria grande di là e piccola di qua vabbè qui la città come stanno in una cadenza ah ah no così è ragazzi vi lascio il tanto che pur che si può fare una live un bacio Sapatore buonasera buonasera ma cos'è? mi sono mangiato la zuppiera niente però non sono mangiato solo le... io mi accetto ma ti mangi pure guardate il tortellino nel piatto e il polignone sotto io lo mangio gli faccio la dita naturale oh ma proprio te bella naturale non metti te mi sei molino e il polignone sotto io che ti hai messo eccomi allora comunque ti hai già solato perché te con il telefono è pronto per te sono lì stasera ok buonasera e buonasera a tutti e buonasera a tutti